Se volete, seguitemi anche sul mio canale Gameplay, ne sarei veramente molto felice se vi piacciono i videogiochi quanto me. Inoltre, vi ricordo anche i miei social, la pagina Facebook, la nuova pagina Facebook, il mio profilo Facebook proprio per YouTube se volete aggiungermi e possiamo discuterli di qualcosa, il mio Instagram e basta. Mi raccomando, mettete anche un bel mi piace se il video vi piace e buona visione. Benvenuto nella regione di Agne. Una nuova regione, piena di nuove missioni, nuovi Pokémon e tante cose da fare. Siete pronti? Andiamo! Ehi, ciao! Sono nuovo qui e sono pronto a diventare un Pokémon Ranger! Sì, sì, ciao! Piacere, sono Glenda e sono sicura che andremo molto d'accordo! Ehi, Teo, vuoi fare qualcosa di stupido? Tipo una prova di coraggio? Sono appena arrivato per poter dimostrare a me stesso e ai miei genitori che non sono un buono a nulla e che farò qualcosa nel mio futuro e tu arrivi qui a chiedermi di fare una prova di coraggio? Sì! Ok, a che ora e dove? Non credi che sia leggermente losco questo posto? Ma no! Eh, forse un pochino. Ma sono sicuro che non sia niente di che. Lo credo anch'io! Un pacco importantissimo, la mia prima missione. Non devo fallire né sembrare un completo idiota nel farlo o manderei tutto all'aria. Eccomi qui, finalmente il... il pacco intatto e la mia missione completa. Ah, meno male! Gente, il pranzo è arrivato! Ma come? Tutta sta fatica... per portare a voi il pranzo? Certo. Che cosa credevi? È il battesimo per le nuove recrute. Allora preparatevi a correre. Ehi, amico! La mia ragazza è stata circondata da dei Pokémon! Devi aiutarmi! Ehm, ok, aspetta un secondo. Ehi, Nintendo! I Pokémon sono quelli che potrebbero diventare tecnicamente i miei potenziali starter, non è vero? Sì! Ok. La tua ragazza è salva. Adesso vattene. Wow, ci siamo veramente laureati, è fantastico! Sì, ma... Oh no, due Tangru ci stanno attaccando! Glende! Glenda! Stai distante, è pericoloso! No, non è vero! Senti, ho visto troppi entai e so che tu con i tentacoli non andresti molto d'accordo, soprattutto perché siamo in un gioco giapponese, ok? Quindi... stai distante! La mia prima missione è nella regione di Agnia e devo andare a pattugliare una grotta buia con un altro maschio. Sono molto male. Teo, che cosa sono quelle supposte giganti? Oh no, un incendio! Certo che questa è una situazione scottante! Non ci credo che l'hai appena... La cosa ti brucia? Scusate, ma è legale legare un tizio per farlo parlare? Dopotutto è un gioco per bambini. Beh, dovrebbe, essendo a fin di bene. Sì, ma... Oh... Hai appena tranciato un dito. Ops, due dita. Senti un po', ti scompaiono i Pokémon dall'isola da sotto il tuo naso e devo avere il tuo permesso per entrare nella grotta? Ma sei serio? Sì, beh, devi sapere che... Levati dalle palle! Brando, ti sei fatto battere da un Drapion? Ma che ti ha fatto diventare leader? Senti, non ti sei nemmeno accorto che il tuo professore è il vice capo del Timpesto Buio. Oh sì, e ora me ne vado e vi lascio affogare. Ma è un gioco per bambini! Alex, dopo tutta la fatica fatta per ottenere i cristalli leggendari, ti fai catturare come un pirla e non solo devo salvarti il culo, ma devo anche cederne uno come riscatto? Scherzo epico, ho finito male XD! Eh? Altro SPA. Sei per caso sardo? Simpatico, ma tu non hai capito nulla. La torre in sé è una gigantesca Gigaremo. Il potere del cristallo oscuro mi permetterà di avere il controllo di ogni singolo Pokémon presente all'interno della regione. E voi Ranger non potrete fare nulla se non soccombere. Ah, dimenticavo che dalla mia parte ho il potente Dark Ray, un Pokémon leggendario che non potrei battere in quanto non prova sentimenti buoni. Ehi nereo, Dark Ray è impazzito e sta per trasportarti dentro a vuoto tetro? Cosa? No, impossibile! Lo sai che non va mai a finire bene provando a controare i leggendari? Hai mai giocato al primo Pokémon Ranger? Vedete che nessuno impara dagli errori qui però, eh? Aiutami, ti prego! Va bene. Potere del cristallo di luce vieni a me! E mi sa che ho sbagliato il gioco. Tutto è bene, ciò che finisce bene. Abbiamo salvato il mondo e Nereo Reggiani è stato arrestato. Ora ho una domanda per te, Nereo. Ma perché tutti gli italiani sembrano mafiosi nei giochi Pokémon? Non chiederlo a me. Io volevo fare il panettiere. Comunque. Ora viviamo finalmente in pace. Noi Ranger saremo sempre ricordati e amati dalla popolazione. E non saremo mai lo zimbello di... Oh, ma sei serio? Grazie a tutti per aver visto il video. Se siete arrivati fino a qui... Grazie, veramente. Siete coraggiosi. Detto questo, vi voglio ricordare ovviamente i miei social e il mio altro canale. Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Mandatemi l'amicizia sul profilo privato di Facebook, così possiamo interagire lì. Se volete. Poi c'è la nuova pagina Facebook, Instagram e il nuovo canale. E tutto quanto. Noi ci rivediamo al prossimo video. Un saluto da Teo. E ciao, ciao.